Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale di programmazione Aidenhain. Anche in questo video una piccola informazione che in realtà per quanto sia presente già da parecchio tempo sui controlli Aidenhain, magari non tutti la conoscono, la funzione che voglio mostrarvi oggi, quindi che è una funzione ausiliaria, quindi quella identificata dalla lettera M di Milano, è la funzione M148. che trovate appunto anche nel titolo di questo video. Allora, a cosa occorre? Qual è la funzione della M148? È quella di impedirmi questa noia che se io sto eseguendo una lavorazione e ho la necessità di interromperla, ora vedete sto lavorando ai Z3.08, io interrompo la lavorazione, la fresa termina il suo movimento e mi rimane lì su questo 3.08, che può darmi noia per lo strusciamento degli inserti sul pezzo e allo stesso modo per delle tracce che poi può lasciarmi anche sulla superficie, nel caso fossi, non come in questo caso, nel caso fosse una passata comunque di finitura. Quindi bello sarebbe poter arrestare la lavorazione chiedendo al controllo di quando si arresta la macchina, tu sgancia l'utensile dal pezzo che stai lavorando. Ok, ora interrompo qui, anzi magari la lascio andare avanti, perché il primo passaggio che noi dovremo guardare riguarda la tabella utensili, ok? Riguarda la tabella utensili una cosa e un'altra invece riguarderà la programmazione. Quindi vediamo di... No, è troppo lunga la lavorazione quindi la interrompo. Quindi manuale, tabella utensile e andiamo a cercarci una colonna ben precisa che troviamo molto avanti o molto in basso se avete... se utilizzate un editor diverso per la tabella utensili, a questo proposito se qualcuno casca dal pero lo rimando a... vi suggerisco di guardare un altro video in cui parlo di come impostare appunto questa visione della... questo... l'editor della tabella utensili, abbiamo una colonna che si chiama Liftoff e dove, se vediamo nel commento qui in basso, infatti ci chiede sollevamento ammesso sì o no, quindi con ent o con no ent. Io ora ce li ho tutte su sì, però appunto con il no ent mi compare una n di no, con invece premendo l'ent mi compare la y di yes. Quindi in questo modo vuol dire che io dico che questo utensile... a questo utensile è permesso di sollevarsi nel caso io interrompa l'esecuzione. Quindi questo è il primo passaggio, quindi l'abilitazione in tabella utensili dell'utensile che mi deve fare quel... quel movimento di sollevamento nel momento in cui sto lavorando. La seconda parte invece ovviamente riguarda la programmazione. Ora non è più un mistero che stiamo parlando della M148 e quindi io indico M148. da questo punto in avanti all'interno della mia lavorazione ogni volta che interromperò il ciclo di lavoro avverrà anche... allora mi sposto con gli assi per evitarmi zappate sul mio pezzo. Quindi se ora rilanciamo la nostra esecuzione con la M148 attiva e con quindi l'indicazione yes all'interno della tabella utensile io posso arrestare... vedete, ora sto lavorando a z4.04 Ora, vedendo che si riposiziona, nel momento in cui io premo l'hold vedete che si è sganciato salendo a 6.04 quindi di 2 mm. Nel momento in cui io qua decidessi di riavviare la lavorazione ovviamente riprenderà la z in cui era nel momento in cui ci si era fermati e prosegue la sua lavorazione. Quindi con tabella utensile e con la M148 attiva ad ogni arresto avverrà questo sollevamento dell'utensile sul mio pezzo dal mio pezzo. Questo non avviene solo come in questo caso in cui quindi, diciamo, l'operatore ha interrotto la lavorazione perché in realtà la comodità della funzione M148 è che interviene anche in caso la lavorazione venga interrotta per un errore diciamo generato dal controllo un errore di programmazione o un errore di PLC un'anomalia insomma un qualcosa che arresta l'esecuzione. Allo stesso modo la M148 attiva permetterà il sollevamento dell'utensile anche nel caso di caduta di tensione. questo è un simulatore del 640 e si solleva di 2 mm questo direi che sarà la condizione in cui probabilmente lo trovate tutti è un valore impostato da parametri macchina che comunque è anche possibile modificare ma nella modifica che comunque lì si può fare non si può comunque superare il valore di 2 mm invece per quanto riguarda il 530 in cui anche lì è presente la funzione M148 chiedo ovegna non ricordo se su tutta la linea tutta la storia di tutti i 530 però sicuramente su molti sì ecco sul 530 il sollevamento invece è solo di un decimo quindi si solleverà di 0,1 e non di 2 mm ma comunque ce l'avete il sollevamento riguarda l'asse utensile e solo l'asse utensile per cui viene comunque diciamo interviene anche nel caso diciamo interviene nella maniera corretta anche nel caso si stia lavorando con una rotazione dei piani quindi se io ora mi inserissi che questa mia spianatura in realtà non la devo realizzare a 0 ma con un'inclinazione di con un'inclinazione di 5 gradi allora vediamolo così ok comunque verrà riconosciuta la rotazione dei piani quindi anche qui magari svincolata potremmo anche dirlo di resettare reset turn mb max ok quindi allo stesso modo funziona anche se sto lavorando con i piani ruotati dopodiché non sempre occorre questo sgancio di 2 mm perché appunto riguarda l'asse utensile e quindi non viene permesso di tipo su una lavorazione di contornatura di svincolare su x o y in realtà esiste un'altra funzione che permette tramite i vettori di indicare uno sgancio sugli assi x y ma non è il caso della m148 è un'altra funzione ed è un'altra funzione presente solo sui solo sui controlli diciamo di ultima generazione anzi ormai penultimo visto che ormai è stato annunciato e presentato anche il tnc7 che eseguirà poi il che seguirà il il 640 quindi funzione m148 che può essere programmata su una singola riga da solo indipendente per esempio così può essere inserito all'interno di un blocco di programma se inserite in un blocco di programma la m148 verrà attivata già dall'inizio di questo blocco va da sé che poi non mi servirà mantenere questa diciamo questa questa funzione per tutta quanta l'esecuzione della mia del mio lavoro perché appunto potrebbe che so darmi noia comunque o vanificarsi nel caso di una contornatura che seguirà potrebbe andarmi bene su alcune forature sicuramente vietato come la peste che sia attivo su maschiature o che sia attivo anche su per esempio lavorazioni di scalalature con frese a T perché lì direi che è assolutamente vietato questo questo tipo di questo tipo di intervento quindi si può comunque inibire la tabella utensile ma comunque come tutte le funzioni nel momento in cui vengono attivate alla bisogna vanno disattivate in questo caso la M149 disattivate nel momento in cui non ci è più necessario quel tipo di intervento ok questo è penso di avervi detto tutto sia per quanto riguarda il 640 che per quanto riguarda il 530 quindi il 640 svincola di 2 mm modificabile da parametri macchina ma non aumentabile ai 2 e invece sul 530 ritroveremo uno svincolo semplicemente di di un decimo ma tant'è insomma è comunque sufficiente per sganciarsi dalle sganciarsi dal proprio pezzo quindi direi che non ho nient'altro da dire vi voglio sempre bene commentate iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e parlate bene di me ai vostri colleghi ok ciao ciao ciao